Questo libro vuole sopperire ad una grave carenza dei testi scolastici italiani, cioè la vicenda delle terre di confine dell'altra sponda non è raccontata nei nostri libri, non è stata raccontata per 60 anni o è stata addirittura deformata volutamente. Allora è un piccolo libro che nasce con lo scopo di essere il capitolo di storia che manca nei libri dei nostri ragazzi, di una vicenda che è italiana, che è una tragedia tutta nazionale e che nessuno di noi a scuola ha conosciuto perché ci è stata attaciuta per una congiura del silenzio, così l'ha definita Presidente Napolitano che era ben consapevole di questa storia. Allora questa l'hanno curata le nostre associazioni, noi la diamo se non proprio agli studenti perché l'impegno finanziario sarebbe troppo, ai docenti perché possano farsi mediatori culturali e trasmettere questa conoscenza perché sono i primi ad ammettere che a loro questa storia nessuno l'ha raccontata.